Nove misure cautelari contro militanti anarchici sono accusati di associazione con finalità di terrorismo fra le contestazioni e anche la stampa e la diffusione non autorizzata di un periodico definito fra i più oltransisti della galassia narco-insurrezionalista. Pietro Dami. Il nome ispirato agli anarchici bezmotivni attivi in Russia inizio novecento dalle pagine del periodico clandestino le rivendicazioni e celebrazioni di bombe attentati come quello dello scorso dicembre ad Atene a Susanna Schlein, viceambasciatrice italiana in Grecia. Negli articoli minaccia magistrati, giornalisti, messaggi d'odio contro il Presidente della Repubblica, inviti all'azione terroristica e al ricorso alle armi e ancora interviste scritte di Alfredo Cospito, l'anarchico per mesi in sciopero della fame condannato per la gambizzazione dell'ex amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. Il pensiero più radicale, il pensiero più oltransista è quello che si traduce nell'individuare nell'azione diretta, violenta, sia contro le cose che contro le persone, il principale se non unico strumento. Nove misure cautelari dal carcere all'obbligo di dimora, l'operazione della Digos tra le province di Genova, la Spezia e Massa Carrara. Gli indagati sarebbero legati al circolo con gli ardofiaschi di Carrara, questa mattina al Blitz, qui e alla tipografia avenza grafica a massa, ora sotto sequestro. Devono rispondere di associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all'onore e al prestigio del Capo di Stato.